durante il viaggio il popolo si perse d'animo numeri capitolo 21 versetto 4 vincere lo scoraggiamento molte volte nella nostra vita ci sentiamo stanchi sconfitti e abbattuti dall'avversità questo stato d'animo è dovuto principalmente alla mancanza di fede nei confronti di dio i problemi appaiono più grandi e gli ostacoli insuperabili tutto risulta estremamente complicato quando siamo scoraggiati l'unico modo per vincere la paura e lo scoraggiamento e scegliere di guardare a dio anziché alle difficoltà soltanto andando a gesù mentre fissiamo lo sguardo su di lui possiamo trovare vera pace gioia e nuova speranza per il futuro in ogni prova dio ci sostiene con la sua potenza e si prende amorevolmente cura di noi nelle sue braccia eterne riceveremo la grazia di una fede fortificata tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano dio perciò possiamo rallegrarci ed esultare nel signore nonostante i problemi e le difficoltà non lasciarti abbattere dalle situazioni avverse confida pienamente in cristo e continua vittorioso il tuo cammino